Per farci spiegare in questa festa, noi siamo molto, molto qualcuno. Lei ha due da dieci? No. Sì. Grazie. La prossima volta ci organizziamo, vi lancio un'idea. Ci saranno racconti, leggende, storie dei vostri paesi, delle vostre tradizioni, che vi raccontava la nonna, che avete sentito, poesie. La prossima volta le lottiamo un po' insieme e ce le raccontiamo. Alla fine ce le raccontiamo tutti e stiamo. E poi potete raccontare io, una voce sola. Invece, secondo me, questo monte dei poeti deve diventare il monte dei poeti del mondo. Ma anche del mondo che magari è meno conosciuto in Occidente. Anche c'è una poesia, c'è una letteratura che peraltro viene venduta, no? Per gestare il gomo ai produttori. Sì, sì. Sarebbe bello ascoltarla anche dalle vostre voci. Un'idea per la prossima volta, perché quando ritorneremo. Perché ritorneremo sicuramente. Di tempo sti vedi, ascoltaremo sicuramente questa fronte, la sfiderm coll снism, utilizzaremo scopola, mangiaremo sulla vostra voci. Un'idea per il Thompson. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.